Bagni ormai fatiscenti in un container provvisorio della protezione civile regionale da diversi anni e struttura sottostante chiusa e maleodorante, sempre senza indicazioni di nessun genere. Non solo gli incendi stanno caratterizzando la calda e complicata estate di Castel del Monte ad Andria, ma anche l'incuria all'esterno, sulla sommità del maniero. La denuncia arriva direttamente da alcuni turisti portati in visita a Castel del Monte da residenti sul territorio. La situazione è aggravata dal fatto che, in questo caso, l'accesso a dei bagni decenti per un luogo che rientra nel patrimonio dell'umanità unesco era necessario perché uno dei turisti aveva un'astomia. Ma il problema è all'ordine del giorno ed è stato più volte denunciato senza, purtroppo, avere delle risposte. I bagni originali sono chiusi da molto tempo e sono stati sostituiti, come detto, da un container provvisorio della protezione civile. Perché generalmente questo tipo di strutture sono utilizzate nelle maxi emergenze o nei grandi eventi. Sicuramente non possono diventare un punto fisso per i turisti che in centinaia di migliaia giungono sulla collina di Castel del Monte. Tra le altre cose, nella denuncia è specificato come all'interno quei bagni siano ormai sporchi e difficili da utilizzare, a maggior ragione per chi ha, per esempio, un'astomia. Ma il problema è facilmente steso a tutti i disabili, che in sostanza non hanno bagni a disposizione, così come per tante altre esigenze. Nel frattempo i bagni originari restano chiusi, assieme alla brutta figura che quotidianamente si perpetua nei confronti dei turisti. Le celebrazioni e le luci della ribalta internazionale per il maniero federiciano si sono ampiamente spente per contrarsi con una inspiegabile difficoltà a gestire il Castel del Monte come un luogo speciale che va assolutamente difeso, ma soprattutto aperto ad un turismo in cui soddisfare le esigenze basilari, come quella di un bagno decente e pulito per tutte le necessità.